Si sta svolgendo oggi presso l'aula consigliare del comune di Vallo della Lucania l'assemblea del piano sociale di zona Salerno 8 per programmare e progettare i servizi del biennio 2013-2015 nel nuovo piano di zona che succede all'S7 che aveva come comune capofila Castellabate. L'incontro è aperto a tutti i soggetti territorialmente interessati, cittadini, associazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni professionali, associazioni di famiglie e istituti scolastici di ogni ordine e grado.